Saverio Murgia, 26 anni, 10 volte meglio. Sono amministratore delegato di Oros Technology e i Related, due società che ho fondato. Mi candido perché facevo parte della schiera di giovani che non aveva più fiducia nella politica e non sapeva più chi votare e quando ho visto la fondazione di questo nuovo gruppo politico, con le persone e con le competenze che hanno portato, ho deciso di fare un passo avanti e se non ero soddisfatto dell'offerta attuale, di metterci del mio per migliorare la situazione. A livello personale, sicuramente la semplificazione burocratica e fiscale per le piccole e medie imprese, perché lo vivo personalmente avendo fondato io stesso delle piccole e medie imprese. Sicuramente l'investimento che c'è stato e che c'è tuttora nelle tecnologie digitali e nell'istituzione di un'agenda digitale è una cosa che condivido molto con il governo attuale. Rispetto al passato, io e il mio gruppo politico vogliamo portare nuove competenze vere, non soltanto delle persone che cercano un impiego pubblico. Quindi credo che sebbene ci siano delle cose di incontinuità con il passato, la vera differenza, la vera discontinuità sarà la motivazione per il quale noi portiamo avanti le nostre idee. La Liguria credo che sia una delle regioni d'Italia che abbia la densità maggiore di piccole e medie imprese che possono lavorare insieme complementandosi e che possa esportare di più. Quello che la sta frenando credo che sia la mancanza di incentivi per la creazione di un ecosistema più sviluppato che permetta alle singole e piccole e medie imprese di collaborare l'una con l'altra e farsi forza e le infrastrutture per poter raggiungere i mercati italiani e europei in facilità. La riduzione della spesa pubblica è sempre un punto cruciale di tutti i programmi. Sicuramente si può ridurre, si può efficientare la spesa pubblica, però credo che ci si debba concentrare maggiormente sulla crescita in maniera da rendere il GDP comparabile con la spesa pubblica, riducendo il deficit non tagliando servizi offerti ai cittadini ma compensando con un sviluppo economico più forte. Sicuramente per abbassare la tassazione che grava soprattutto sulle piccole e medie imprese, sui liberi professionisti, sulla fascia di reddito più bassa, quello che si può fare è quello di semplificare la burocrazia e di istituire un tetto minimo di fatturato prima di dover mettere in piedi delle rendicontazioni, tra le quali per esempio la partita IVA. La scarsità di occupazione che stiamo vivendo in questo periodo non è secondo me tanto perché non ci sono i lavori, è perché siamo rimasti indietro come Paese rispetto allo sviluppo tecnologico mondiale e pertanto quello che si deve fare non è tanto cercare di non perdere i lavori che c'erano prima e di tornare indietro, ma formare le persone che sono adesso negli studi o che stanno prendendo il lavoro per essere reintegrate nel mercato del lavoro del 2018. Per migliorare l'accesso al credito, visto che siamo nel terzo millennio, credo che si debba puntare sulle cose che stanno arrivando, non tanto quello che c'era in passato, non tanto i finanziamenti bancari che sono, come ben sappiamo, avversi al rischio e è difficile farli cambiare idea, ma cercare di investire maggiormente su nuove possibilità come il peer-to-peer lending o la blockchain. Per una burocrazia più snella credo che il primo passo sia quello di terminare il lavoro portato avanti con lo sviluppo di sistemi automatizzati e semplici da utilizzare anche da casa per poter adempiere agli obblighi di legge, ma anche quello di eliminare certi obblighi per le fasce più basse di fatturato. Per migliorare l'infrastruttura della Liguria in particolare, credo che sia necessario anche qui portare avanti e terminare gli investimenti che sono stati iniziati per collegare con mezzi veloci la Liguria con il resto d'Italia, con le principali città e investire maggiormente sugli aeroporti che già abbiamo. Il segreto per aiutare i giovani a trovare il lavoro è quello di offrire fin da subito durante l'educazione una visione a 10 anni, perché quello che sta succedendo adesso è che la scuola e l'università formano per quello che c'è nel momento in cui si iniziano gli studi. Bisogna creare dei programmi di formazione che vadano avanti a 10 anni, che formino per gli lavori che ci saranno ma che non ci sono ancora. Per aiutare le donne che lavorano credo che sia necessario agire sulla paternità, perché quello che c'è al momento, a parte la differenza biologica del fatto che sono le donne che portano avanti una gravidanza, è il fatto che per usanza e anche per contratti la maternità la prendono sempre le donne, invece bisogna portare avanti un'uguaglianza in cui anche la paternità diventa obbligatoria in maniera da portare sullo stesso piano entrambi i sessi. Il mio primo impegno sarà quello di fare tutto il possibile per istituire dei programmi di formazione e aggiornamento che vadano dal lavoratore all'azienda, all'artigiano per portarli nell'economia del terzo millennio. Il piccolo artigiano può sfruttare le tecnologie e le innovazioni per poter crescere la sua azienda e poter andare avanti e essere più competitivo. Le piccole e medie imprese sono al momento responsabili per il 65% dei posti di lavoro e se potessero fare 10 volte meglio? Hashtag 10 volte meglio Liguria.